Fabrizio Moro dice addio, o forse arrivederci, chissà, ad amici di Maria De Filippi. Il cantautore e musicista italiano non sarà membro del corpo docenti del talent show di Canale 5 nella prossima edizione. A spiegarne le ragioni è stato lo stesso Romano, che nelle ultime ore ha rilasciato varie interviste. L'ultima è al quotidiano milanese Il Giorno, che l'ha incontrato in occasione del suo concerto a Carroponte. La scelta pare essere definitiva, anche se il 42enne nutre ancora qualche perplessità. D'altro canto abbandonare uno dei programmi più seguiti della tv italiana non è cosa da poco, per cui bisogna pensarci bene. Radio Italia ha affermato che bisogna ancora vedere, anche a causa delle numerose tappe del suo tour invernale. Con il quotidiano del gruppo QN, invece, oggi è parso più netto. La decisione è stata maturata.